Una task force congiunta, Unione Europea, Unione Africana e ONU per proteggere i migranti lungo le rotte migratorie, in particolare in Libia. È il risultato più importante raggiunto nel secondo giorno di lavori del vertice UE, Unione Africana, che si chiude oggi ad Abidjan, capitale della costa d'Avorio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha reso noto che la Libia ha concordato con i leader di nove paesi africani ed europei, tra cui l'Italia, di consentire ai migranti, diverse migliaia chiusi nei campi lager, di essere rimpatriati entro pochi giorni o al massimo poche settimane. Il premier del governo di accordo nazionale libico, Fayez Sarraji, ha assicurato che saranno consentiti l'individuazione e l'accesso ai campi, all'interno dei quali le persone subiscono continui soprusi e violenze fino a essere vendute all'asta come schiavi, un orrore nel 2017. L'accordo generale tra UE e Unione Africana arriva fino al 2022 e punta allo sviluppo economico con investimenti europei nei paesi di origine dei profughi. Ancora non si conoscono i dettagli del piano, tanto meno le cifre. Qualcuno pensa ai 40 miliardi di euro per l'Africa annunciati dall'esecutivo europeo nel prossimo bilancio. Un annuncio però rimasto sulla carta, visto che finora nessun paese membro ha staccato un assegno.